L'apertura della porta di San Clemente della Basilica in Piazza San Marco, il Giubileo a Venezia, si celebra il 13 dicembre ed è tutto pronto anche per garantire a fedeli turisti e cittadini di partecipare alla cerimonia e vivere la città nella massima tranquillità. Direi più che Piazza San Marco blindata, Piazza San Marco opportunamente controllata, è un momento importante per la nostra città ma il Giubileo è una manifestazione, un'iniziativa a livello nazionale e mondiale, quindi in questo momento particolare che stiamo attraversando è ovvio che le attenzioni devono essere al massimo livello. Ci sarà un servizio che richiamerà quello approntato in occasione dei funerali di Valeria Solesin con una particolare attenzione ovviamente anche alla Basilica, anche l'edificio appunto della Basilica sarà circoscritto, ci saranno dei filtraggi per accedere all'interno e tutti i fedeli autorizzati e già censiti dalla stessa curia che accederanno alla Basilica saranno muniti di pass. Nel momento di eventuali controlli approfonditi sulla persona munita di pass la stessa dovrà dimostrare la corrispondenza del pass con lui stesso e quindi un documento di riconoscimento sarà richiesto nell'occasione. Quali consigli da dare ai cittadini, ai turisti, ai fedeli non solo per l'evento di domenica ma proprio per frequentare Venezia in occasione di tutto un programma che poi scatta il carnevale, insomma che buone pratiche adottare per vivere in serenità con la giusta apprezzione per i fatti avvenuti? Ma guardi io credo che ormai il momento come dicevamo poco fa che stiamo vivendo non solo a livello nazionale e internazionale ha educato tra virgolette i cittadini e i turisti a certe attenzioni e a comprendere quelle che sono le misure di sicurezza approntate. Quindi io non darei nessun consiglio se non armarsi di pazienza laddove ce ne fosse necessità, non credo che i controlli che faremo creeranno grandi disagi e grandi code, però laddove questo dovesse succedere si deve solo capire che è fatto nell'interesse di tutti e della sicurezza generale.